Tutti quanti, sbarbagliatevi e cercate! Lei, aiutami a cercare! Arrivo! Hai trovato qualcosa? Non vedo niente! Non c'è niente! Non c'è niente! Non c'è niente! Sam, vedo un bersaglio VIP tra i primi dieci ricercati della CIA. Se riesci a catturarlo, preparo l'estrazione. Vi sei? VIP catturato. Autorità locali allertate!